Ha segnato la Juventus! Io voglio cercare di riportare un po' all'ordine i tifosi della Juve, insomma quantomeno quelli che appartengono alla mia community, a questa community, perché sarò molto sincero, mi ha veramente dato fastidio, mi ha veramente scocciato il modo in cui sono state fatte avanzate delle critiche nei confronti della Juventus dopo il pareggio contro il Bologna, Casalingo contro il Bologna. Io dico che sono stati eccessivi innanzitutto ragazzi perché si tratta della seconda giornata di campionato e per quella che è stata effettivamente la prestazione dei bianconeri, perché credo che ci sia stato veramente un eccesso di negatività da parte di tutti noi, forse anche me in primis al termine della partita. Questo video nasce un po' da alcune riflessioni che ho fatto tra me e me, dopo anche l'episodio di Game of Data che abbiamo fatto qui a tutti in the box, dove siamo andati ad analizzare proprio il match report di Juventus-Bologna. Siamo andati proprio dentro a Juventus-Bologna e i dati non è che abbiano smentito il fatto che la Juventus abbia fatto una prestazione non troppo brillante, ma comunque hanno rivelato quantomeno il tentativo da Juventus di fare una prestazione importante e diversa rispetto al passato. Perché io credo ragazzi che sia questo il motivo per cui secondo me dobbiamo un po' placare la nostra ira, la nostra frustrazione e anche le critiche nei confronti di una squadra che in questo momento credo sia veramente ingiusto avanzare queste critiche. Per carità, la critica è sacrosanta, è doverosa, è consentita, è anche il bello del calcio poter esprimere le nostre opinioni, poter esprimere il nostro parere, quello che pensiamo, no? Però bisogna che ci sia sempre e soprattutto anzi bisogna recuperare, bisogna che il tifoso della Juve recuperi la fiducia che bisogna avere in questa squadra e in tutto lo staff. Una fiducia che questo staff, che l'allenatore, che la squadra meritano perché il tentativo e l'intenzione di fare un qualcosa di nuovo e di diverso e di migliore rispetto alle ultime due stagioni c'è. Perché vi dico questo? Perché quante volte avete sentito su questo canale dal sottoscritto ma anche da parte di altri colleghi, penso soprattutto anche a Lucone Toselli che se ci sta guardando saluto, dato che io lui lo seguo giornalmente e mi ricordo bene anche i suoi post partite dell'anno scorso, quante volte ci avete sentito dire siamo arrabbiati con la squadra perché non ci proviamo neanche, perché non ci proviamo nemmeno. Entriamo in campo, ci accontentiamo del nulla e speriamo che comunque la vittoria arrivi senza andarla a prendere, senza andare ad aggredire la partita, senza provare a mettere in campo un qualcosa di nuovo, un qualcosa di diverso, che sia anche nelle corde di questa rosa, perché le capacità non mancano. Quest'anno ragazzi la differenza è che il tentativo c'è, l'intenzione c'è e l'altra sera i dati lo dimostrano, lo testimoniano, perché la Juventus il 50% dei palloni persi li ha sempre riaggrediti in avanti. Il problema qual è stato? Che solamente il 20% di questi li abbiamo recuperati ed effettivamente soltanto il 20% delle volte il pressing è andato a buon fine. Che cosa significa? Che su 10 palloni persi, 5, hai cercato subito di riaggredirli in avanti. Il problema è che soltanto 2 su 10 tu sei riusciti a riportarli a tuo favore. Tra il non provarci e il non riuscirci ragazzi c'è di mezzo un mare, c'è di mezzo un oceano, perché non provarci allora ti giustifica il nervoso. Non riuscirci quantomeno ti deve però fare dire ok sono incavolato perché abbiamo perso, perché abbiamo pareggiato la partita, perché non l'abbiamo vinto. La partita della Juve ragazzi non sto dicendo che sia stata una partita maestosa, ma provo neanche a convincervi del fatto che non è stata nemmeno così tragica e tremenda. Ma il fatto di dire ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti è ben diverso dal dire non ci abbiamo nemmeno provato. Per cui io, e questo qua è un po' il messaggio che vorrei provare a farvi passare, mettervi un po' nella testa, cioè cerchiamo di avere questa fiducia in Massimiliano Allegri e attenzione, purtroppo è già passato praticamente metà video, forse dovevo chiarirlo all'inizio. Questo qua non vuole essere un video che va a difendere Allegri, vuole essere un video che va a difendere la Juventus e che vuole cercare di unire e pacificare un po' tutti i tifosi della Juventus, ripeto, almeno di questa community. E io dico queste cose perché la fiducia nel lavoro di questa squadra, di questa stagione, in questa stagione, lo dobbiamo mantenere. Perché la risposta che mi è stata data da tanti, che vedo che sta proprio, è un po' la risposta che danno tutti, no? Cioè in tanti mi dicono è Davon però è da due anni che ci chiedi di aspettare, che ci chiedi di portare pazienza, se permetti la pazienza è anche finita. Quanto dobbiamo aspettare, no? Per vedere questi miglioramenti. Io ragazzi vi vorrei ricordare che, e vorrei sottolineare, che ogni stagione è diversa da tutte le altre. Ogni progetto tecnico sicuramente è fatto di cicli, che possono essere più o meno vincenti, è fatto di cicli, ma ogni stagione è diversa da tutte le altre. Per cui il fatto che le scorse due stagioni siano andate male non significa che allora dobbiamo andare ad intaccare anche questa nuova stagione che è appena ricominciata. Perché non ha alcun tipo di senso, non ha alcun tipo di logica, ma soprattutto è anche troppo presto per cominciare a chiedersi e a parlare quantomeno dell'esonero di Allegri, no? Perché sento qualcuno che dice, eh, ma dovevamo esonerarlo dopo Monza, dovevamo esonerarlo dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa. Sì ragazzi, ma quello che potevamo fare ormai è andato, non possiamo cambiarlo. E il fatto che magari si doveva prendere una scelta diversa allora non significa che adesso dobbiamo rimuginarci sopra, dobbiamo star qui a dire, eh, ma non possiamo nemmeno giocare, non ci presentiamo neanche in campo perché tanto abbiamo fatto una scelta sbagliata l'anno scorso. Non ha senso, non ha senso. Questa è una stagione nuova, diversa, e quindi bisogna che noi ci siamo e che supportiamo sulla base anche dei risultati di questa stagione. Non dobbiamo lasciarci troppo intaccare da quello che è successo, semplicemente perché è controproducente nei nostri confronti e nei confronti della Juventus. Anche la Juventus di Antonio Conte, il suo primo anno, dopo una vittoria entusiasmante per 4-1 all'esordio stagionale in casa, la prima in casa all'Allianz Stadium, poi dopo credo che fu a Catania, secondo me la partita di Catania, che la Juve riuscì a pareggiare in extremis, no? 1-1 dopo una partita, dopo una prestazione in vereconda, no? Però questo non significa che dopo quel pareggio lì, allora perché non abbiamo dato continuità, perché non siamo riusciti a fare una bella prestazione come la prima in casa, allora tutto doveva essere distrutto e ogni cosa era negativa, ogni cosa non funzionava, sento già parlare di cambio modulo, sento già parlare di cambio di giocatori. Ragazzi, ma non funziona così il calcio, cioè non è che se fai un pareggio in casa col Bologna, allora devi stravolgere tutto. E io temevo, dopo quel pareggio lì, temevo che la società un po' si lasciasse influenzare da tutto l'ambiente negativo e andasse a fare degli acquisti un po' insensati alla parede sullo scorso anno, per intenderci. Invece Giuntoli probabilmente ha dettato calma, ha piazzato gli ultimi colpi in uscita e questo ci ha permesso di rimanere con quelli che sono i giocatori attuali di oggi, un discorso che ho già fatto anche qualche video fa, cioè la Juventus deve tornare a lavorare su quello che ha in casa, non aggrapparsi a nomi o a piccole dosi di entusiasmo che però durano veramente pochissime settimane, pochissime giorni. Il vero entusiasmo, i veri risultati, le vere soddisfazioni nascono con un lavoro che è duraturo. E quello che voglio dirvi, e poi chiudo, è questo ragazzi, io non vi chiedo di non criticare, la critica è sacrosanta, vi è consentita, lo dicevo anche prima, è anche il bello di questo sport, poter esprimere le proprie opinioni da bar e crearci dei dibattiti sopra. Quello che vi chiedo è di recuperare la fiducia però nel lavoro che sta facendo la Juventus, e non può essere un pareggio in casa alla seconda giornata a mettere in dubbio questo tipo di fiducia, a far crollare ogni tipo di fiducia. Perché tifare significa anche criticare, assolutamente, non significa sicuramente essere degli yes man che stai lì davanti a farti andare bene tutto, soprattutto quando sei la Juventus e sei abituato a un certo tipo di risultati. Però tifare ragazzi vuol dire anche supportare, soprattutto vuol dire anche avere fede e fiducia. Questa arriva sicuramente anche con dei risultati nel vedere che ci sono dei passi in avanti, ma vedendo anche gli ultimi due anni che abbiamo vissuto, vi dico, accontentiamoci in questo momento e aggrappiamoci al tentativo di questa squadra di fare un qualcosa di nuovo e di diverso. Contro l'Udinese ci siamo riusciti? Bene. Contro il Bologna non ci siamo riusciti. Non sempre le cose vanno come le preparate, non sempre la pratica rispecchia la teoria. Quando ti trovi in campo ci sono mille fattori che, dopo pochissimi secondi, possono stravolgere la strategia che vi hai pensato per delle settimane. Ma il fatto che ci sia il tentativo, il fatto che ci sia l'intenzione e quindi il lavoro da parte di allenatore, staff e squadra di cercare un qualcosa di nuovo, di perseguire un qualcosa di nuovo per arrivare al risultato, ragazzi, questo ci deve tenere ben salda la fiducia nel lavoro della Juventus. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione!